La Spagna, la meta preferita dagli italiani, soprattutto in estate, per vacanze da sogno, sia per luoghi che per turismo notturno. Ibiza, Tenerife, Palma de Mallorca. Sappiate che nessuna di queste mete spagnole è il fulcro del turismo della Spagna. Una volta tolte dalla classifica Madrid e Barcellona, nel terzo gradino del podio di città più turistica di Spagna, spunta un nome predominante ormai da decenni. Una città che ospita fino a 10 milioni di turisti ogni anno in soli 38 chilometri quadrati. Ma com'è possibile ospitare 10 milioni di persone in così poco spazio? Semplice, in altezza. Benvenuti nella New York del Mediterraneo. Benvenuti a Benidorm. Salve a tutti amici e benvenuti all'ora delle tapas, che alcuni di voi sicuramente conosceranno come Paella Lambrusco, cioè il nome del mio primo canale. Ma siccome abbiamo aperto un secondo canale chiamato l'ora del tè, ho pensato di riprendere questo e fargli qualche modifica adesso che faccio i video più decentemente, diciamo, non voglio dire bene, ma più decenti almeno. Quindi benvenuti amici di Paella Lambrusco e benvenuti amici dall'ora del tè. Bene, siamo tutti qui riuniti. Dunque, ho pensato in questo agosto così caldo perché rimanere a casa e non portarvi in giro per Benidorm. Benidorm è la città in cui vivo ed è una delle città più turistiche di Spagna, la terza per la precisione, poco conosciuta dagli italiani, quindi ho pensato di farvi fare un giro. Vi dividerò tutto in quattro video, uno per ogni zona della città, che uscirà ogni martedì, tranne il giorno di ferragosto, chiaramente, però saranno i quattro martedì di agosto. Bene, iniziamo. Benidorm, situata a 35 chilometri da Alicante e 150 da Valencia, è la città con più grattacieli per abitanti al mondo, nonché la seconda città con più grattacieli per metro quadro, seconda solo a New York. I residenti di Benidorm sono circa 60.000, ma nei periodi di alta stagione ospita fino a 400.000 persone al giorno. La città è adatta ad ogni tipo di turismo perché è stata ben suddivisa in diversi quartieri a seconda del tipo di vacanza che volete fare, per quello vi dico che ci vorranno quattro video, perché la città è divisa in diverse parti. C'è la parte di Levante, di Playa Levante, dove abito io, che è la parte in assoluto più turistica, cioè c'è proprio il fulcro di tutto il turismo più che altro giovanile. Poi c'è il centro storico, il cosiddetto casco antiguo, che invece è per un turismo prevalentemente magari familiare o di coppia, quindi una vacanza più tranquilla. E poi c'è Playa Ponente, che sicuramente è la parte più nuova della città, che ha anche diversi edifici di lusso ed è un punto lì, si concentra prevalentemente un turismo proprio tranquillo, cioè per chi vuole soltanto scendere di casa, andare al mare e risalire. Poi sì, ci sono anche dei locali, però è proprio la zona più tranquilla in assoluto, infatti è anche la zona diciamo più residenziale. Poi ci sono le varie cale e altre parti, vi dirò tutto nei prossimi video, non ci spoileriamo troppo. Quindi in questo primo video parleremo proprio della parte più turistica, della parte più attiva, della parte con discoteche, della parte con locali, con alcol, con giovani e in tutta la follia che puoi trovare, perché tra poco vedrete. Quindi in questo video ci concentriamo su Playa Levante. Innanzitutto la prima cosa che chiaramente vi starete chiedendo è, conviene più andare in hotel o conviene più prendere un appartamento? Partiamo da questa domanda, perché ne approfitto per raccontarvi come funziona il grattacielo. Innanzitutto, fun fact, Benidorm ha i due grattacieli residenziali più alti d'Europa, che sono l'Intempo, che vi mostrerò quando parleremo di Playa Ponente, con 50 piani e Torre Lugano che ha 42 piani ed è situato a Playa Levante. Tutti i grattacieli, ripeto, tutti i grattacieli hanno servizi fruibili da tutti gli inquilini. Che cosa intendo per servizi? Intendo portinaio quasi H24, come minimo 8-12 ore al giorno, ma ho visto che la maggior parte hanno il portinaio, soprattutto l'estate, H24. Poi piscina, tutti i grattacieli hanno le piscine, dal grattacielo più vecchio al grattacielo più nuovo, tutti quanti hanno almeno una piscina. Dei campi da paddle, dei campi da tennis, fruibili e sfruttabili da tutti gli inquilini. Quindi se voi venite in vacanza in un grattacielo, oltre all'appartamento, avete anche varie piscine, tutti i servizi alcuni, anche una piccola palestra. L'unica cosa che cambia dagli hotel sostanzialmente è il fatto che non c'è il ristorante, perché nei grattacieli, a parte nell'Intempo Building, che poi vedremo quando parleremo di Playa Ponente, i grattacieli non hanno i ristoranti, quindi non c'è la colazione, non ci sono i pranzi e le cene. L'unica cosa che cambia appunto dagli hotel è questo, e gli hotel in più l'estate, tutte le sere fanno magari anche degli spettacoli, quindi cambia in questo senso. Chiaramente il grattacielo può prendere un appartamento che costa meno rispetto all'hotel. Bene, siamo a Playa Levante, mi sono seduta un attimo perché altrimenti tutto il video sarebbe stato così, quindi perché non sono capace di fare i vlog, sono più capace, mi sento più a mio agio a rimanere in casa. Quindi il primo consiglio che voglio darvi, adesso vi mostrerò tutto e andremo in giro, è che non venite a luglio e agosto in vacanza qui per due motivi. Il primo è per il caldo che è paralizzante, il secondo è questo. C'è un macello di gente, non si cammina, io praticamente luglio e agosto vado al mare alle calette e vi sto dentro casa perché veramente c'è gente ovunque. Considerate che luglio e agosto, che è il risco, fa 400.000 persone al giorno. 400.000 persone al giorno, come vi dicevo, è una città sviluppata per altezza, quindi non per lunghezza e alla fine, anche se poi ognuno ha la sua casa, fuori sono comunque pochi metri quadri. Alcuni hotel offrono la terrazza panoramica a tutti quanti, c'è un lounge bar sulla terrazza accessibile a tutti. Partendo proprio da Playa Levante, la prima terrazza che incontrerete è la terrasse, sopra l'hotel Port Benidorm, davvero molto carina. Poi ci sono altre, diciamo, terrazze panoramiche che vi dirò nel corso di questi video. Ora che abbiamo visto una panoramica, diciamo, di come funzionano i grattacieli, più o meno la struttura della città, iniziamo con in giro. Playa Levante va dalla punta più est di Benidorm fino al confine con il centro, cioè il casco antiguo. Tutta questa parte della città è puramente turistica, c'è anche chi ci vive tipo me, però questo lato della città è un insieme di spiagge spaziose, grandi locali sul mare, grandi locali all'interno delle vie, è tutto fatto per rendere la tua vacanza anche il più alcolica possibile. Playa Levante è la zona più internazionale, diciamo. Allora, Benidorm in sé per sé, di spagnolo ha solo il centro, che vedremo nel prossimo video. Tutta questa parte è stata praticamente colonizzata dagli inglesi. Loro avevano all'inizio le classiche due vie piene di locali, come potete vedere a Palma de Mallorca o, non so, a Corfu. Nel corso degli anni si è svegliato il loro spirito coloniale e hanno praticamente colonizzato mezza città. Quindi in tutta Playa Levante ci sono locali che fanno poco di cucina spagnola, fanno prevalentemente hamburger, sandwich, patatine fritte, è una cucina molto generale. La mattina trovate prevalentemente colazioni inglesi, quindi l'uovo, fritto, i ustel, i bacon. Quindi diciamo che se volete andare più nella parte spagnola è più il centro. E soprattutto l'alcol che costa poco, infatti a prescindere in Spagna la birra costa poco, cioè una 0,5 la pagate al massimo 2,50 euro, a prescindere. Ma nella zona inglese la birra, una 0,5, quindi una pinta, pagate un euro. Perché chiaramente è fatto tutto per il divertimento. Poi vi porterò tra poco nella zona inglese per farvi capire un po' che tipo di turismo si è sviluppato in questa zona e perché magari se avete figli e non ce li dovete portare. Quindi iniziamo dal lungomare. Iniziamo dal lungomare. Dunque la spiaggia di Playa Levante è molto lunga, è molto grande, ma la spiaggia di Playa Ponente. Quindi dall'altro lato è ancora più grande, è ancora più lunga. Allora, come potete vedere non esistono stabilimenti. È tutta spiaggia libera, con la differenza che questa, dove vedete gli ombrelloni blu che sono sparsi più o meno un po' in tutta la spiaggia, fino alla giù, fino a Playa Ponente, sono gli ombrelloni comunali. Che significa? Significa che il comune mette a disposizione questi ombrelloni. Se voi ad esempio siete dei turisti, non venite chiaramente in aereo muniti da spiaggia con ombrelloni, sdraio eccetera eccetera, potete affittare questi ombrelloni e queste sdraio con un costo giornaliero di 6 euro. Quindi 6 euro l'ombrellone, 6 euro la sdraio, potete anche solo prendere l'ombrellone o solo la sdraio. Quindi con, al fine i prezzi sono abbastanza contenuti e durano per tutto il giorno. Quindi fino alla chiusura che dovrebbe essere intorno alle 10 di sera, se non sbaglio. E che cosa succede? Che se voi, per esempio, prendete l'ombrellone, quindi date 6 euro, vi state. Poi a un certo punto volete andarvene, andare a mangiare e andare in un altro punto della spiaggia di Benidorm. Non c'è bisogno che ripaghiate perché basta mostrare il ticket e quel ticket vale tutto il giorno. Inoltre, altra cosa buona, nonostante sia spiaggia libera, c'è un bagnino ogni tot metri. Quindi il comune mette a disposizione un sacco di bagnini. Considerate che anche le calette nelle riserve naturali, le calette nascoste qui dietro, di cui vi parlerò dopo, hanno il bagnino. Anche la piscina, per esempio, del Grattacielo, dove vivo io, ha il bagnino. Benidorm non è molto lunga. Da Playa Levante al centro sono 3 km, quindi si può fare tranquillamente a piedi. Se non avete voglia di farvela a piedi, comunque potete affittare, ad esempio, delle biciclette, potete affittare dei monopattini nella miriade di negozi che incontrerete per strada. E c'è un terzo mezzo di locomozione, che è utilizzato prevalentemente dagli inglesi. Questo mezzo di locomozione, questa sorta di motorino, non saprei come chiamarlo, è disponibile dai 55 anni in su. Fino a qualche anno fa potevano affittarlo tutti, poi i ragazzi giustamente ci facevano le gare ed è comunque un mezzo che a 30 l'ora ci arriva, quindi hanno deciso di metterla dai 55 anni in su. Passeggiando sul lungomare ci sono un sacco di locali, alcuni molto molto carini, altri dalle fattezze un po' più trash, però tutti fanno da mangiare hamburger, panini, toast, grigliate, un po' di tutto. Passando dal mare, a due vie più interne. Inizia quella che appunto vi dicevo essere un mix tra un girone infernale e una mini Las Vegas, cioè la cosiddetta zona Ghiri. Perché Ghiri? Ghiri è un modo che hanno gli spagnoli per chiamare gli inglesi, come ad esempio noi chiamiamo i tedeschi crucchi, quindi non è proprio, non è un complimento, però non è neanche proprio iper disprenciativo. Però che cosa succede? Che in questa zona che praticamente ormai prende tutta Playa Levante in parallelo sul mare, si concentrano una miriade, ma veramente una miriade di locali ed è tutto puro divertimento. Nella zona inglese dentro tutti i locali sono aperti dalle, credo più o meno dalle 6 del pomeriggio fino alle 6 del mattino e fanno spettacoli, in continuazione si beve, c'è musica, quindi non sono proprio le discoteche alla Ibiza maniera, che ce ne sono un paio fuori, qui nei confini di Benidorm, però sono tutti come se fossero dei locali disco, nel senso che dentro appunto ci si balla, c'è la musica eccetera, però puoi anche sederti a bere. Zona Ghiri è un insieme di vie che partono da Cai e Girona fino all'Avenida Europa, da cui poi inizia il centro e in tutte queste vie ci sono locali su locali, discoteche, disco pub, disco bar, di tutto. Ora, qui entriamo in un nuovo ecosistema e come il nostro caro amato Alberto Angela cercherò di esporvi questo ecosistema e le creature che lo abitano, perché gli inglesi sono diciamo un po' particolari, sicuramente sono molto diversi da noi in determinati, sotto determinati aspetti, quindi partiamo con questo magico viaggio alle scoperte delle lande di zona Ghiri. Questa civiltà a tratti può sembrare primitiva, eccentrica, con dei rituali eccessivi, ma che sicuramente esce dall'ottica capitalista e nel suo habitat naturale il Ghiri si diverte con poco. Il Ghiri è generalmente riconoscibile da diversi fattori. È molto comune vederli indossare i costumi di qualunque cosa, come se fosse sempre carnevale, al punto che l'ultimo giovedì di novembre fanno la festa di fine stagioni e tutti si vestono e c'è anche una sfilata di cardri. La cosa incredibile è che tutte le età, cioè non riguarda solo i ragazzi, che tu abbia vent'anni o ne abbia ottanta, bevi, cioè ti siedi a bere, con la differenza che gli anziani iniziano prima perché poi vanno a letto prima, cioè voi immaginatevi vostra nonna che a malapena va al bar a fare colazione, a prendersi un cappuccino o un cornetto, invece se venite qui a Bedford vedete le donne, le signore e i signori anziani inglesi di 70-80 anni con delle belle tanniche di birra così alle 8 del mattino. Alle 8 no, in realtà alle 10 perché a proposito prima delle 10 qui non apre niente, cioè prima delle 10 si dorme, quindi non pensate di fare i mattinieri in vacanza perché prima delle 10 di mattina non è aperto nulla. Una volta appurata la specie che vi troverete di fronte in queste vie di zona Ghiri, vediamo i tipi di locali in cui loro vanno ad abbeverarsi. Un insieme di vie piene di locali, tutti a tema inglese, decisamente a tema inglese, centinaia, ognuno con all'interno piste da ballo, DJ o band, dipende dai locali, fino ad arrivare a Caglie Pizza. Caglie Pizza era l'originaria zona Ghiri, una via piena di locali come Palma de Mallorca, Malta, la classica zona inglese. A Caglie Pizza si concentrano i locali diciamo più grandi come il Chaplin, il Beachcomber, il Champions. Il Beachcomber è il mio preferito perché il Beachcomber è proprio discoteca, cioè mentre gli altri anche dei tavolini su cui ti puoi sedere, il Beachcomber è proprio discoteca e la cosa che fa ridere è che mette un sacco di musica strana, cioè un giorno pensate ho beccato anche le canzoni mixate di High School Musical. Fa musica molto commerciale, il bello di zona Ghiri è che puoi trovare sia band che fanno magari cover band rock, sia musica commerciale, iper commerciale. Non c'è quasi traccia di reggaeton, latini, cosa che invece in Spagna vanno tantissimo, quindi per me ad esempio che non sono amante del genere frequentare zona Ghiri è l'ideale. Poi dopo mezzanotte, non so come spiegarvelo senza farmi bannare da YouTube, chiaramente non posso mostrarveli perché non si può, altrimenti questo video sparisce, ma zona Ghiri ha un divertimento un po' particolare. Dopo mezzanotte ci sono diversi spettacoli, a tema un po' ose, mettiamola così, come ad esempio c'è questa coppia che poi ogni sera cambiano locale, ma solitamente sono sempre i soliti 6-7, in cui praticamente c'è questa coppia uomo-donna, che tra parentesi hanno anche OF per chi fosse interessato, in cui loro fanno diciamo una sorta di equilibrismo sull'overboard perché iniziano con uno spettacolo magari Star Wars, Minnie e Topolino e altre varie coppie diciamo di fantasia e su questo overboard ognuno sul suo iniziano a togliersi i vestiti e poi finiscono a fare immaginate cosa su un unico overboard in pieno equilibrio, difficilissimo. Oppure per esempio degli spettacoli di magia in cui c'era prima la madre adesso ha preso il suo posto la figlia in cui queste maghe, queste streghe, maghe non so come chiamarle, fanno apparire oggetti dal nulla che li cacciano da zone intime femminili, per esempio. Ci sono questi tipi di spettacoli un po' strani, cioè un po' strani, un po' eccentrici mettiamola così, chiamiamoli in questo modo che piacciono molto agli inglesi. Infatti li troverete in estate da maggio fino a ottobre, tutti i giorni, tutte le sere, in qualunque locale entrate troverete almeno uno di questi spettacoli, ma ce ne sono tantissimi che non vi sto ad elencare onde evitare che questo video faccia una brutta fine, però capite il senso di che tipo di spettacoli, ecco. È diciamo la zona dell'eccesso, dell'eccesso però nei limiti della legge, perché questo ve lo voglio dire soprattutto ai ragazzi giovani, che ho detto così, sembro anziana, ma ai ragazzi giovani. Dunque, dentro zona Ghiri, la zona Ghiri è stata creata apposta per fare un po', diciamo, lasciarsi un po' andare, ecco, però fino a un certo punto. Perché? Innanzitutto ogni locale è un buttafuori, quindi se vedono che avete un comportamento troppo eccessivo, troppo esuberante, vi sbattono fuori e soprattutto gira molta polizia, proprio per evitare che ci possano essere dei pericoli. Infatti per me, io spesso sono andata a piedi da sola a zona Ghiri, non mi sono mai sentita in pericolo, perché tra il buttafuori e la polizia che passa in continuazione, non hai nulla da temere, nonostante la maggior parte delle persone siano ubriache, però solitamente gli inglesi non ti scocciano. E occhio, per quello dicevo ai ragazzi giovani, occhio, perché la polizia spagnola, a differenza di quella italiana, ha il diritto di manga nell'arti a sangue. Cioè, i poliziotti spagnoli possono cacciare il manganello per qualunque cosa, non è come da noi, che deve essere una cosa giustificata, poi comunque hanno dei problemi. Il poliziotto spagnolo prende il manganello dalla tasca e comincia a massacrarti di botte. Che tu abbia 80 anni, che ne abbia 10, che pesi 30 chili, che sei una donnetta di 40 chili, o che sei un uomo di 130, non gliene può fregarvi meno. Ti prendi comunque le manganellate. Quindi, anche se questa zona vi permette di bere, di vedere spettacoli, eccetera, eccetera, mi raccomando, non esagerate. Cioè, non siate troppo esuberanti, perché altrimenti tornate a casa sanguinanti, ve lo dico. Ora vi do una chicca, però, di Playa Levante. Una bella chicchetta molto, molto carina. Cioè, nella parte più est della città, quando finiscono i grattacieli, c'è un percorso naturale protetto chiamato Sierra Elada, o Serra Gelada, in Valenziano. Questa riserva è bellissima, perché si vede tutta la città con tutti questi grattacieli bellissimi, ma sei in mezzo alla natura. Per darvi un riferimento su come ci si arriva, che chiaramente dovete appunto arrivare fino alla fine della città, voi impostate sul navigatore il ristorante Baia Blanca, che tra pareti si vi consiglio, perché Baia Blanca è un ristorante bellissimo, che ha una terrazza a strapiombo sul mare, da cui si vede tutta la città. Superata Baia Blanca, il ristorante Baia Blanca, da lì inizia questo percorso. In questo percorso naturale avete due calette, su cui appunto potete scendere, ma se continuate dritto avete appunto questo percorso fatto di due vie, uno che vi porta fino ad un vecchio faro e un'altra che vi porta fino alla croce di Benidorm, che è il punto panoramico più alto della città. Poi dalla croce di Benidorm, se continuate, però lì ci vogliono le scarpe da trekking, vi fate praticamente tutte le montagne frastagliate della costa e arrivate alla città vicina. Su quello ci vuole più o meno quattro ore di camminata, però invece qui il percorso che arriva fino alla croce ci vorrà un 20 minuti, però in salita quello che arriva al faro è quello più accessibile, la strada è asfaltata, quindi potete arrivarci anche in bicicletta, saranno 10 minuti a piedi. Però vi vedete tutto il profilo della città allo stesso tempo siete immersi totalmente nella natura, quasi ricorda un po' la Sardegna e il paesaggio. Per quanto riguarda le calette che vi trovate sotto all'inizio della Sierra Elada, ce ne sono due, c'è Cala Almadravas e Cala Tio Shimo. Dunque, sono tutte due calette molto carine, ma Cala Almadravas, che è la prima che incontrate, che è anche quella più grande, è una Cala Mista. Che significa una Cala Mista, una spiaggia mista? Significa che ci sono anche i nudisti. Se siete facilmente impressionabili andate a Cala Tio Shimo che sta proprio lì accanto, se ve ne sbattete invece Cala Almadravas è molto bella e ho scoperto che soprattutto le persone di 80 anni, di 70-80 anni, piace proprio denudarsi, quindi ho visto un sacco di uomini e donne nudi, ottantenni e niente così. L'acqua è molto bella, il mare è pieno di pesci e l'acqua è trasparente, in realtà anche nella spiaggia di Benidorm, di Playa Levante, nonostante la quantità infinita di gente che c'è, l'acqua è spettacolare. Cioè l'acqua a Benidorm è bellissima. Ultima cosa, Playa Levante, sempre alla fine, trovate anche il parco acquatico di Aqualandia, pensate con il secondo scivolo più alto d'Europa, così. Se volete farvi un giro ad Aqualandia puoi comprare i biglietti online. Comunque questo era il fulcro di Playa Levante. Noi ci vediamo martedì prossimo per parlare invece del casco andivo, cioè del centro di Benidorm e vi farò vedere anche il festival perché ci vado questo sabato, quindi vi farò vedere anche uno dei festival più grandi di Spagna, il Low Festival, dove ci vengono un sacco di artisti e infatti io vado a vedere il Plasibo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo giovedì alle 14 sull'ora del tè e martedì prossimo su questo canale. Ciao!